Andiamo all'acquario, bellissimo questo Marte dell'amico Ariete, è un Marte che vi rende combattive in tutte le questioni che hanno a che fare con la vita sociale, quindi sul lavoro e nel rapporto con gli altri, avrete proprio sempre questa voglia, questa esigenza di far prevalere le vostre idee, le vostre tesi, le vostre convinzioni, i vostri progetti e nella maggior parte dei casi ci riuscirete, l'unica avvertenza è che non dovete essere proprio ciechi, magari state ad ascoltare sempre il consiglio delle persone di cui potete fidarvi, le persone che sapete essere persone affidabili, una luna bellissima per l'amore in questa giornata, chiudiamo.